Ed eccoci qua signori, siamo arrivati allo speciale 500 iscritti So benissimo che non si tratta di un traguardo devastante Ma anche se è un piccolo traguardo, è pur sempre un traguardo Che siamo riusciti a raggiungere insieme E questo mi rende davvero tanto felice Sinceramente non sapevo cosa fare come speciale Poi mi sono detto, ma perché non rispondere alle domande dei miei iscritti? Ah ok, ma prima di cominciare volevo mostrarvi un qualcosa di divertente Penso che conosciate tutti Zeb89 Il famoso youtuber E volevi La scorsa settimana ha fatto una live E nelle sue live c'è la possibilità di donare E io ho voluto donargli un euro Questo è quello che è successo Come ho detto e ripeto, io non cambio Io non me ne frega proprio Ti stimo un sacco Zeb Phoenix, Phoenix, Phoenix Grazie mille Zeb, grazie tante Ovviamente non ce l'ho con lui, tranquilli Ma tralasciando questi piccoli particolari Io partirei immediatamente rispondendo alle vostre domande La prima domanda ce la fa Giuseppe Camarrata Che ci chiede Phoenix, abbiamo creato un gruppo Whatsapp Entreresti? Ragazzi, per entrare su un gruppo Whatsapp Vorrebbe dire dare il mio numero di telefono E non è per cattiveria Però magari voi iniziereste a scrivermi dei messaggi ogni due secondi E io già il telefono lo odio In questo modo lo lancerai direttamente dalla finestra Per cui ragazzi, su Whatsapp no Ma ovviamente ragazzi, se non c'è Whatsapp Ci sono altri milioni di posti dove possiamo sentirci C'è Facebook Lasciate mi piace la faccia di Facebook C'è Instagram Seguitemi su Instagram C'è direttamente YouTube Tutti i posti che volete Tanto io i message li leggo sempre La seconda domanda ce la fa TheBlackSchool Come ti chiami? Il mio vero nome è Mario Nome orribile che io odio ma lasciamo perdere Io speravo che i miei genitori mi chiamassero Fancy Vabbè Come andavi a scuola? Ha! Che bella domanda A scuola non me la cavavo benissimo sinceramente Ma ero molto furbo Nel senso che Cercavo in tutti i modi di farmi piacere Anche se nelle materie facevo cagare Professori vedevano un ragazzo che si impegnava Anche se poi i risultati erano orribili Però alla fine riuscivo sempre ad arrivare alla sufficienza Probabilmente grazie anche a questo mio modo di fare con i professori Ma sì A scuola facevo abbastanza schifo Che rapporti avevi con i tuoi compagni? Questa è una domanda interessante Ho avuto vari compagni durante il mio percorso scolastico E mi sono trovato quasi sempre bene con tutti quanti Verso gli ultimi anni di scuola superiore Deve essere successo qualcosa I rapporti iniziavano a raffreddarsi tantissimo Non ci parlavamo quasi più praticamente Ma in classe comunque bene o male I rapporti erano abbastanza normali Nessuno si odiava a morte tipo Ti aspetto fuori ti rovino la vita Ma tutto sommato direi che ho avuto bei compagni PS Sei un grande e ti stimo per quello che fai Continua così Credetemi ragazzi sono io che stimo voi E a me sentire queste cose sinceramente fa un piacere Immenso La terza domanda ce la fa Dragon Swamp Come hai pensato di fare lo youtuber? PS mi saluti? Ciao Dragon Swamp Allora Parto subito col dire che io il canale lo avrei dovuto aprire molto tempo fa E si parla del 2010 più o meno Solo che c'erano alcuni problemini che mi hanno bloccato totalmente Uno era il fattore Non so fare praticamente nulla Non che adesso so fare molto Ma di sicuro rispetto a una volta so fare di più In più poi non avevo nemmeno i mezzi Non avevo una videocamera Non avevo il computer Anche volendo non potevo farlo E di fatti non l'ho fatto Ma io in realtà era da tantissimo tempo che volevo aprire un canale E il motivo è perché io fin da piccolo E le persone che mi conoscono lo possono confermare Ho sempre amato far ridere gli altri E dato che YouTube è un social network con un sacco di persone Ho pensato voglio creare anch'io dei miei video Cercando però di far divertire il più possibile le persone che mi guardano Perché YouTube è il mezzo più semplice per arrivare direttamente alle persone E quindi ho deciso di unire le due cose Voglia di far divertire gli altri E possibilità di fare video E alla fine è uscito il mio canale YouTube Fancy Ovviamente io spero di riuscire a farvi divertire Non ne sono certo ma ci spero Giuseppe P30 ci chiede Farai un video con il nostro clan? Assolutamente sì Solo che devo riuscire a trovare il momento giusto Quando ci sono io e quando ci siete voi specialmente Io durante la settimana ci sono la mattina Ma so benissimo che la mattina voi siete a scuola Avevo pensato magari di domenica Però non è sicuro In ogni caso se decidessi di farlo Ve lo dico almeno una settimana prima Così almeno voi vi organizzate tantissimo Perché so benissimo che se volessi farvi una sorpresa Entro nel clan Nessuno online Eleonora Rembado ci chiede Ti piace Harry Potter? Io lo odio Harry Potter io lo adoro E questa tra l'altro è la bacchetta di Harry Potter Sono andato lì Gliel'ho rubata Tanto a lui non serviva Come fai ad odiarlo? Non si sa Non è possibile Ho visto Harry Potter e la camera dei segreti Ben 18 volte Non sto scherzando Da quando avevo 11 anni a adesso Ho sempre guardato Harry Potter Anzi guardo solo Harry Potter praticamente E la uso anche per grattarmi Perché ci sta Ho fatto casino vero? Lumos Maxima Molto meglio Giuse Bell ci chiede Cosa ne pensi di Youtube Italia? Mi saluti? Sei un grande Che domanda Ciao Giuse Io penso che Youtube in sé sia un social network spettacolare Che dà un sacco di possibilità a chiunque di caricare video E si può anche guadagnare È perfetto Tutti voi nella vostra home di Youtube Troverete un sacco di video dove ci sono persone che si odiano Persone che creano canali contro altri canali Gente che prende cornetti Li tira in faccia la gente Non si capisce più niente Probabilmente queste cose accadono Per un semplice motivo Il fattore soldi Quando le persone vedono che su Youtube si può guadagnare Iniziano a cercare in tutti i modi Di creare video Che possano fare milioni di visualizzazioni Ed escono fuori cose tipo Scherzo epico La mia vicina cade dalle scale Mentre io la riprendo Epico E secondo me questi video Rovinano Youtube Perché sono proprio inutili Poi escono fuori anche le persone Che hanno il desiderio Di offendere gli altri Ed escono fuori i commenti Cancro Stronzo Tutto perché uno sta facendo un video E questo rovina E non poco La community di Youtube Italia Ci sta che un video può non piacerti Ma ci sono modi e modi Di dire le cose Penso no? Lo so che lo pensi anche tu Snickolows ci chiede Ti puzza nei piedi? Come puoi vedere no Mi ami? Io si Ma certo che ti amo Amo tutti i miei scritti Ovviamente Nessuno escluso Anche chi mi insulta Vin Max ci chiede Potresti fare la bottle flip challenge? PS sei un grande Ti ringrazio Ma siete sicuri di volermi vedere A fare questa cosa? Guardate che io sono un esperto eh Io ve l'ho detto Io ve l'avevo detto D'accordo ragazzi Dopo questa mia prova Spettacolare Io concludo qua Questo speciale L'unica cosa che posso fare ora È ringraziarvi Per questo traguardo Che sì Come ho già detto prima È piccolo Ma è pur sempre un traguardo Ve l'ho già detto in passato E continuerò a dirvelo all'infinito Divertiamoci insieme E niente ragazzi Io vi ringrazio nuovamente Per questo supporto Che mi state dando Spero di riuscire a divertirvi Sempre il più possibile E vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi Spero di riuscire a divertirvi Spero di riuscire a divertirvi Spero di riuscire a divertirvi